eh io sto diventando grande lo stiamo diventando tutti comunque vabbè belle belle note e bei ricordi anche con questa canzone comunque va bene dai si torna all'85 si torna all'1985 che bello c'evo tutti i capelli ancora belli che meraviglia vabbè vabbè io pensavo solo ai cartoni animati a ricordicette avevo 5 anni vabbè noi un po' di più ahimè o ai noi paolo cochi ecco io già pensavo a questa ricetta che si concludeva quella che stai per introdurre eh già allora infatti infatti ci siamo adesso apriamo questa pagina anzi la riapriamo perché è stato veramente ospite un amico ormai ovviamente di questo format scrittore giornalista e soprattutto come si dice in gergo dentro al pezzo ovviamente dei casi purtroppo non belli non si parla di festicciole non si parla di eventi insomma da tappeti verdi o rossi ma si parla ovviamente di momenti afferati e omicidi e quant'altro e non solo e c'è ancora uno di questi aspetti che ancora tiene banco e sarà ovviamente anche protagonista del suo prossimo eh lavoro al di là di ogni ragionevole dubbio un libro che da gennaio sarà nuovamente in edicola diciamo le ribellie si chiedo scusa diciamo che quasi con un aggiornamento già del precedente che già uscito a gennaio ovviamente ci sarà questa questo nuovo pubblicazione si parla del mostro di firenze e ne parliamo proprio con paolo cochi ciao paolo grazie di essere qui con noi ciao paolo allora ancora questo caso non si chiude no è ancora aperto giudiziariamente apertissimo e cioè è incerto da 50 anni nacque nell'agosto del 68 questa storia inizia e tutt'oggi agosto 68 attenzione cioè veramente una vita fa una vita fa e c'è un'indagine aperta due fascicoli uno per per depistaggio aperto proprio di recente dal procuratore capo di firenze e che riguarda appunto determinati aspetti dell'indagine perché non si è chiarito poi se i compagni di merende fossero o meno eh responsabili di questi parlavamo di ultime novità paolo insomma mh qui si parla anche di questa perizia che che ricordavi proprio tu che smentirebbe la prova regina su parcianni colpivoli sia una perizia fatta fare di recente dal magistrato dottor turco che si occupa delle indagini e sarà fatta fare al perito balistico davide minervini il quale questa è una notizia che riporta il quotidiano la nazione il quale afferma che la prova quindi il bossolo ritrovato nell'orto del pacciani quindi la prova regina che lo inchiodava al processo è stata artefatta questo all'epoca furono fatte delle perizie che invece dicevano il contrario ora sembra che spieghiamoci meglio artefatta cosa vuol dire qualcuno ha la mano messa e non c'è la frode processuale c'è la frode qualcuno voleva probabilmente castrare pacciani e questo sarebbe una notizia grave che purtroppo trova pochissimo spazio nelle testate nazionali e io la volevo rimettere nuovamente in evidenza come ho fatto su fanpage un'altra testata giornalistica e credo che sia uno un qualcosa di estremamente di estremamente grave c'è ma non parlo al collega parlo ovviamente diciamo a chi facciamo finta abbia soltanto letto visto e informato anche per curiosità insomma è contatto ancora ma tu pensi che davvero c'è questo signorotto anche attempato con l'età anche un po' cioè veramente banale insomma nelle nuove di pacciani sì ma possa essere stato lui cioè io non ci ho mai creduto no assolutamente io penso assolutamente di no ma è un'opinione mia personale come assolutamente non credo entrino in gioco i famosi compagni di merende che erano degli diciamo immarginati un po' dalla società e questa è una caratteristica un po' della vicenda del mostro di Firenze dove da prima si andò a incolpare a condannare i sardi che erano gli immigrati di adesso quindi rapportato al tempo odierno poi gli immigrati di adesso si è sempre cercato un po' la comunità fiorentina ha sempre un po' cercato questo mostro all'esterno del... come se non volessero... come se non volessero... un mostro in casa propria insomma esatto esatto poi è andato su i compagni di merende quindi emarginati della campagna della campagna con... ti chiedo scusa Paolo cioè sentite veramente di tutti i colori anche addirittura poi sui chirurghi e poi sui chirurghi sette quindi la setta esoterica satanica i mandanti eccellenti però siamo sempre sul... così come un qualcosa che non facesse parte del quotidiano della community toscana e in particolar modo fiorentina io invece credo proprio che... che sia in casa proprio... sì e questo lo dimostrano... ma è in casa o sono in casa? no a mio parere è... è uno è una persona sola? sì che possa aver goduto di complicità ma non a livello operativo a livello di altra natura può darsi insomma poi dipende dove dove... in che contesto lavorava ecco e che... che ruolo aveva nel... ma te lo chiedo come te lo chiederebbero tutti no? perché e per chi? cioè è un pazzo così che... però è un pazzo che cioè va avanti dal 68... c'è un pazzo contro... dal 68 all'85... voglio dire aumentando... 8 duplici omicidi che poi magari andremo analizzare nel particolare insomma... fatto sta che ci sono ancora degli indagati e sta chiesta l'archiviazione da parte del PM e qui magari vorrei parlarne nella... ma assolutamente certo che sì... allora tra pochissimo ne parleremo... linea alla regia? ma anche se non credo se la tecnologia potrebbe essere... dare una mano... ritorniamo a parlare ovviamente qui con Paolo Cocchi scrittore giornalista insomma... in attesa della... della sua ultima fatica che è poi tutt'altro che una fatica non vedo nulla che esca insomma... il tuo prossimo libro che parla di questo caso è il mostro di Firenze ricordiamo tutto inizia nel 1968... siamo ormai a cavallo del 2000 e c'è chi vorrebbe archiviare... c'è chi invece vorrebbe ancora tenere alta la tensione... ma io però voglio andare un attimo... un pochetto nel passato no? sì... che cosa accade nella notte del 1984? arrivano a telefonare i carabinieri Paolo... perché? e chi è? allora prima vorrei fare una specifica sul discorso precedente e dire che la perizia del magistrato ultima... va in contrapposizione con una perizia già precedente del processo... chiaramente adesso siamo con tecnologie superiori per le perizie balistiche quindi... poi saranno i magistrati a decidere quale... se ci sarà un procedimento... quindi... non posso dare un giudizio tecnico ecco quindi... perché c'è questa perizia che dice che la prova è artefatta... per quanto riguarda l'indagine... non c'è un'archiviazione... perché l'archiviazione riguarda la posizione di due ultimi indagati... una posizione... quindi un fascicolo aperto tre anni fa... un'indagine se così vogliamo chiamarla... molto molto... è stata definita agli indizi molto incerti... molto labili... quindi è andata avanti per tre anni... una sorta di carneficina mediatica... in fronte di questi due soggetti... ma prove... non ne sono state portate... ricordiamo otto omicidi Paolo... otto sono... e tu sei convinto che comunque... duplice omicidi... duplice certo... sì sì giusto... sei convinto che sia soltanto una persona... ma... sì poi al di là delle mie... questo pensiere tuo... insomma... al di là delle mie convinzioni personali... ecco io... cerco di portare le notizie in maniera... infatti... e quindi... da cronista... faccio questo tipo di... quello che ci sarà nel libro... nel libro ci sarà... tanto altro... ci sarà anche un discorso molto interessante... che ho ritrovato... riguardo... la pistola... ecco... parliamo un attimo Paolo... eh... non vorrei dare troppe anticipazioni... ah beh... una cicca piccolina dai... beh... uno spunto investigativo... circa la pistola... del mostro di Firenze... e questo si basa su... eh... relazioni di... comandante... dei... 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 dei carabinieri... eh... non... non mia... io ho preso e ho riportato... quanto... però... lascia un attimo... eh no... è giusto... è giusto... che poi questa pistola si riferisce a una determinata persona... e l'indagine poi non va più avanti... ecco... questo poi... quello che posso dire... riguardo al discorso telefonata... eh... mi chiedevi... all'inizio... è... un articolo che ho fatto... era una cosa... diciamo che era nelle carte... quindi si sapeva... una strana telefonata... che arriva la notte del delitto di Vicchio... nel 1984... dove... c'è... una persona che... non so se abbiamo tempo di... di illustrarla... come no... si si si... c'è una persona che... eh... fa riferimento a un fumetto... a un fumetto sul mostro di Firenze... che era uscito due anni prima... e... anticipa già delle cose che poi il mostro fa nel... quindi due... quello... dice già nell'82... parla già dell'escissione del seno... cosa che non era avvenuta... quindi non può essere un mitomane... non può essere un mitomane... e soprattutto il personaggio protagonista... di quel fumetto... si chiamava Farini... Angelo Farini... e questa telefonata... di questo individuo... con l'accento toscano... nella notte... alle quattro e mezza... di quella... di quella notte... si qualifica... appunto... come... Farini... ma pensate... Farini... dando dei riferimenti... anche a... eh... perché nel fumetto... il personaggio... eh... il mostro... muore... in un incidente... con un autocarro... nel fumetto... uscito due anni prima... eh... c'è... questa... questo riferimento... nella telefonata... viene menzionato... un incidente... con un autocarro... mamma mia ragazzi... è abbastanza inquietante... questo... e con un anticipazione... no... la telefonata... la cosa bella... è che è registrata... perché a me ha dato... questa informazione... sia il comandante di allora... dei carabinieri... sia... la persona operativa... che era... alla caserma di Borgo... quindi... eh... è una cosa... è stata trasmessa in procura... poi che fine abbia fatto... eh... i diretti interessati... non lo sanno... però... ma guarda Paolo... io... vabbè... questa è un'idea mia... me la tengo come tale... io penso che ci sia... da sempre... da anni... cioè... da che inizia questa vicenda... da che si inizia a scavare... a cercare... una... tragica... immensa copertura... di qualcuno importante... non lo so... io ho messo in evidenza... questo fatto del fumetto... la bellezza... di otto anni fa... cioè... di otto anni fa... esistono le coincidenze... su queste cose... sì o no? sì... tantissime... però quando le coincidenze... cominciano ad essere molte... magari uno può pensare che... siano un po' meno coincidenze... come si dice... dopo tre coincidenze... diventa una prova... non è sempre così... però spesso... spesso lo è... mamma mia... ci parlerei... tutta la giornata... veramente con te... a proposito di coincidenze... che coincidenza... ci chiamano dalla regia... a... 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 a...